Ciao ragazzi oggi vi faccio vedere come creare un effetto di questo genere Innanzitutto mi scuso nuovamente se non sto utilizzando la webcam e quindi non mi si vede in volto ma per questi due giorni ho avuto l'influenza e quindi ho preferito registrare un video soltanto a livello audio Oggi voglio farvi vedere appunto come creare un effetto di questo genere Vogliamo creare un videogioco dove siamo dei cecchini, degli sniper e dobbiamo eliminare dei nemici in particolare? Bene, praticamente questo secondo me è l'effetto che potremmo utilizzare all'interno del nostro videogioco Non ho inserito dei nemici e per farlo non è affatto facile Fatemi sapere se vi piacerebbe un domani vedere il continuo di questo videogioco Per realizzare questo effetto dobbiamo avere in particolare uno sfondo Io ho utilizzato un'immagine 1080x720 e ho praticamente creato due layer Layer background e layer scope che sta a indicare appunto merino come state vedendo Vi ricordo ragazzi che non entro nel dettaglio su come creare i videogiochi perché in descrizione trovate appunto i corsi completamente gratuiti Una volta che abbiamo appunto aggiunto il nostro sfondo nel layer background bisogna aggiungere il nostro mirino, in questo caso ho aggiunto proprio questo e poi successivamente dobbiamo aggiungere l'oggetto drawing canvas ci basta semplicemente cliccare sullo sfondo e troviamo appunto l'oggetto drawing canvas che in questo caso è questo qui, come state vedendo proprio in questo punto qui Una volta che abbiamo fatto questo è molto semplice Per sfogare lo sfondo è importante l'immagine di sfondo che dobbiamo inserire non deve essere sfocata, la sfocatura deve essere fatta all'interno di Construct Come facciamo a fare questo? Clicchiamo all'interno del nostro layer che contiene il nostro sfondo e aggiungiamo due effetti, blur horizontal e blur vertical ovvero sfocatura orizzontale e sfocatura verticale Come si fa ad aggiungere un effetto? Clicchiamo su effects, andiamo su aggiungi nuovo effetto e troviamo appunto blur horizontal e blur vertical Io in questo caso ho lasciato i parametri standard 100% e 100% ma potete anche giocare voi come meglio preferite ovviamente consiglio di mettere il tutto al 100% Una volta fatto questo, come funziona il codice? Il codice è semplicissimo Praticamente ho aggiunto l'oggetto mouse in questo caso infatti io muovo il mirino proprio utilizzando il mouse e come sapete bisogna aggiungere l'oggetto mouse quindi doppio clic all'interno di Construct e aggiungiamo l'oggetto mouse che lo troviamo appunto su input in questo caso l'ho già inserito e non me lo fa inserire Successivamente cosa dobbiamo fare? Aggiungiamo un'azione mouse che va a eliminare il cursore e successivamente con l'azione scope quindi mirino andiamo a dirgli a Construct che la posizione del mirino deve essere mouse.x e mouse.y quindi come dobbiamo fare andiamo su scope andiamo su set position in questo caso e gli diciamo mouse.x e mouse.y in questo caso quello che succederà ovvero il tutto in every tick quello che succederà è che praticamente il nostro mirino verrà posizionato perfettamente dove dove è il nostro cursore il nostro puntatore del mouse perfetto ho preferito fare questi episodi in questa maniera perché so che molti di voi ad esempio conoscono già bene Construct per questo ci sono i corsi gratuiti in descrizione consiglio di vedere quelli e per questo non ho preferito fare tutto step dopo step una volta che abbiamo fatto questo cosa dobbiamo fare? dobbiamo creare tre semplici azioni dobbiamo dire che il drawing canvas si deve pulire quindi andiamo su aggiungizione drawing canvas e facciamo clear canvas in questo caso successivamente gli diciamo che il drawing canvas deve essere perfettamente posizionato proprio sul nostro mouse dove appunto è anche posizionato il nostro mirino quindi drawing canvas set position mouse.x mouse.y importante come state vedendo appunto qui sullo z order quello che sono andato a fare è posizionare il drawing canvas sotto lo sprite del mirino come state vedendo in questo modo dopo che abbiamo quindi fatto queste azioni abbiamo fatto che il nostro mouse come state vedendo non ha nessun cursore il mirino viene posizionato perfettamente su mouse.x e mouse.y drawing canvas viene pulito e posizionato dove c'è il mouse.x e il mouse.y il tutto è neveredic quindi queste azioni verranno fatte sempre subito dopo cosa dobbiamo fare? dobbiamo dire al drawing canvas guardate qui vado su aggiungizione drawing canvas gli vado ad incollare quale oggetto? l'oggetto sfondo bg senza effetti without effect quindi quello che succederà è che in quel quadretino quindi in questo drawing canvas in questo piccolo quadrato che sarà posizionato qui verrà incollata l'immagine bg quindi l'immagine di sfondo ma il tutto in maniera originale quindi senza sfocatura e questo sarà il risultato finale come avete visto il tutto è veramente molto molto semplice non è poi così complesso a realizzare un progetto di questo genere è ovvio che se vogliamo aggiungere dei nemici e realizzare tutto in maniera molto più complessa bisogna lavorarci un po' di più perché effettivamente non è così semplice aggiungere dei nemici e posizionarli ma non vi preoccupate perché nel momento in cui bisogna aggiungere dei nemici bisognerebbe lavorare con delle maschere ma ve lo farò vedere in caso più avanti anzi fatemelo sapere con un messaggio qui sotto spero domani di riprendere a fare video come abbiamo fatto fino a settimana scorsa mi dispiace voglio comunque portare un contenuto sul canale e preferisco comunque portarvi questi video come avete visto abbiamo realizzato un effetto di questo genere è stato veramente molto molto semplice possiamo mettere altri effetti di questo genere se ad esempio voglio mettere un altro effetto vediamo un po' vado a mettere un effetto di rumore in questo caso come state vedendo se io adesso passo col mirino come state vedendo non c'è più il rumore questo è fantastico anche questo qui e dovete stare attenti all'immagine che utilizzate nello scope dato che il drawing canvas non può essere un cerchio e lì bisogna un po' giocare perché quello che potrebbe succedere è che essendo che posizionato in questo punto se io ad esempio allargo il drawing canvas guardate quello che succede avete visto? il drawing canvas è più grande del nostro mirino e quindi c'è questo piccolo errore ma non vi preoccupate sono cose che si possono migliorare e vi farò vedere piano piano in questo canale ci vediamo domani con un nuovo video ciao ciao